ciao e benvenuto o benvenuta a questo nuovo capitolo di diventa un mentalista in cui parleremo di cold reading il fatto è che la mia famiglia era scozzese e gli scozzesi sono spesso dotati di un potere che i vecchi chiamano seconda vista ma non mi dica per esempio ora vedo che lei porta in tasca un oggetto raro o meglio un oggetto che deve essere vecchio di almeno vent'anni spesso ha perduto quel portafortuna ma poi ogni volta l'ha sempre ritrovato ha un grande valore per lei anche se ne ignora il perché stia bene attento e lo porti sempre addosso d'accordo lo farò mi scusi sceriffo non sono affari miei perché vedo che lei è un uomo capacissimo di padare da solo a se stesso e in grado di cavarsela in ogni situazione ma il mio sangue scozzese difficilmente mi trae in inganno ora mi dice che c'è qualcosa nella sua vita che la preoccupa un problema che lei trova molto difficile da risolvere e tutta la sua forza il suo coraggio la sua autorità in paese sono come impotenti sembra scivolarle tra le dita come se fosse acqua un momento giovanotto chi è che le ha detto questa cosa come le dicevo sceriffo non sono affari miei lei è un uomo davvero eccellente potrebbe essere mio padre il cold reading tradotto letteralmente con lettura a freddo è una tecnica usata dai mentalisti e come vedremo anche da altre categorie di persone come astrologi e cartomanti per dare la sensazione di conoscere molti aspetti di una persona completamente sconosciuta aspetti riguardanti le caratteristiche psicologiche comportamentali oppure relative al lavoro oppure agli affetti oppure ad altri elementi della persona che viene letta attraverso questa tecnica infatti chi è sottoposto ad una lettura di cold reading ha la sensazione che questa sia estremamente precisa ed efficace è possibile vedere una versione romanzata di questa tecnica nel film di guglielmo del toro la fiera delle illusioni che parla proprio di un mentalista che la utilizza per i suoi scopi per comprendere perché tecniche di questo tipo funzionano è necessario comprendere alcuni aspetti umani molto importanti un bravo mentalista quindi è in grado di utilizzare questi aspetti psicologici a suo vantaggio e attraverso una serie di tecniche che vedremo più avanti di fare in modo che questi esperimenti siano ancora più efficaci tutto questo insieme ad altri aspetti che affronteremo fanno sì che il cold reading se applicato nella maniera corretta sia particolarmente efficace e stupefacente per prima cosa è fondamentale distinguere il cold reading ovvero la lettura a freddo dall'hot reading ovvero la lettura a caldo un altro aspetto importante per il cold reading però è l'analisi della persona che abbiamo di fronte a noi da tutti i punti di vista la postura l'abbigliamento gli oggetti che porta la cura delle mani e così via queste due tecniche cold reading e hot reading se unite insieme in maniera adeguata possono permetterti di realizzare dei veri e propri miracoli allora diana tanto benvenuta piacere proveremo a fare qualcosa di molto particolare intanto posso dire da quello che vedo che sei una tende ad essere sicuramente indipendente anche se pur non volendo ammetterlo hai bisogno in qualche modo che gli altri ti apprezzino ti stimino anche se non è un qualcosa che ti piace ammettere però lo sai dentro di te e sei a mio avviso sicura certa di non avere ancora espresso al massimo il tuo potenziale 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 da tutti i punti di vista potenziale relazionale potenziale artistico vedo una caratteristica di tipo artistico nella tua vita teatro c'è qualcosa che ha a che fare col teatro ok e non accetti di buon grado le le critiche soprattutto se non sono strutturate è corretto però se queste critiche sono convincenti sei pronta a cambiare idea e questo ti ha portato ad affinare molto anche un ascolto un grande ascolto nei confronti degli altri vero vedo nella tua famiglia al di là di tua madre tuo padre vedo un'altra figura che ti accanto a cui tieni potrebbe essere una sorella un fratello un fratello ok proviamo a pensare al nome pensa al suo nome io ovviamente non posso saperlo pensa all'iniziale potrebbe essere un iniziale un iniziale semplice potrebbe essere una ok non lo so è potrei anche sbagliarmi qualcosa tipo non dirmi se giusto se sbagliato ma dimmi se ci sono vicino un aldo un al al qualcosa sicuramente concentrati sull'ultima lettera ok sull'ultima una e hai ancora in mente l'immagine che hai scelto un'immagine che io ovviamente non posso conoscere concentrati su 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 quell'esperienza prova a rivivere l'emozione di quell'esperienza una bella emozione credo si tratti di un'esperienza che hai fatto una sola volta e che non ti dispiacerebbe rifare da come sto vedendo le cose secondo me si tratta di un viaggio è corretto prova immaginare proprio la figura di questo viaggio la cosa che ti è rimasta di più la l'immagine e secondo me l'immagine è una statua è la statua della libertà dove eri a new york giusto il cold reading una tecnica molto affascinante che per poter essere esplorata e capita a fondo va praticata solo attraverso la pratica infatti potrai acquisire quella dimestichezza e quella naturalezza nel fare ad esempio le affermazioni di barnum come se fossero due intuizioni del momento oppure nel formulare le lucky guess senza troppe esitazioni e nel trovare le modalità di comunicazione abilmente ambigue per fare in modo di manipolare la percezione della persona che hai di fronte a te e che subisce la tua lettura insomma dovrai provare 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 per poter diventare un ottimo reader Grazie a tutti Grazie a tutti